ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto se anche tu come lo sai iscriviti al canale attiva la campanella perché pubblico un video al giorno oggi ti parlo di fatti che moto cavallero 700 del 2023 anzitutto però prima di partire se pensi di vendere la tua moto clicca qui sotto sul link descrizione perché così ne possiamo parlare posso metterla se vuoi in vendita ma ti diceo fanti che caballero non fanti motor canti moto non c'è più canti cavallero 700 del 2023 perché appunto fanti rappresentato allo scorso e ma 2022 il nuovo modello denominato caballero 700 modello che si presenta come moto di tipo scrambler quindi con l'utilizzo stradale ma anche con l'idea di poter andare poi in fuori strada si è posizionato accanto alle confermate ormai 125 500 della casa madre e rispetto a questo è introdotto un'unità molto importante perché il motore lo stesso bicilindrico della jamacca mt07 della tracer 7 quindi è stato utilizzato un'unità motrice sicuramente affidabile ben conosciuta quindi direi a questo punto di vedere la moto nell'immagine partiamo come sempre dal motore che è un bi albero con la distribuzione quattro valvoli per cilindro una cilindata di 698 centimetri cubici il doppio albero cam in testa naturalmente con una potenza massima di 75 cavalli e 68 newton metro di coppia massima il telai una struttura in acciaio monotrave con rinforza del cromo lindeno e forcellone in alluminio sezione variabile con leveraggio progressivo le sospensioni sono della marzocchi abbiamo l'anteriore la forcella denominata vrm a stelli rovesciati con gli altri gli stedi 45 mm l'escursione di 150 mm al posteriore invece abbiamo un mono amortizzatore sempre vrm denominato vrm marzocchi che è la regolazione del precario con l'escursione della ruota in questo caso anch'essa di 150 mm i cerchi sono in alluminio a raggi e quindi molto molto belli adatti questo tipo di moto hanno un diametro 19 pollici all'anteriore 17 pollici al posteriore l'impianto frenante poi formato da un singolo disco all'anteriore vediamolo meglio qui nell'immagine di generose dimensioni infatti a un diametro di 330 mm la pinza radiale della brembo 4 pistoncini il disco posteriore da 245 mm sempre con la pinza della brembo il serbatoio da 13 litri ricorda appunto nelle sue forme il cab il caballero degli anni 70 74 se non vado errando comunque 13 litri avevamo detto e il peso senza benzina con il liquido di raffreddamento di 175 kg quindi anche una moto piuttosto leggera visto le caratteristiche generali il prezzo di 9.990 euro in pratica 10.000 euro se ti è piaciuto il video metti un like se non ti è piaciuto metti dislike ma scriviti al canale e attiva la campanella primo a gratis non ti costa nulla secondo faccio un video al giorno sei sempre aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi ciao buona serata